Oggi sentiamo sempre più spesso parlare dei computer quantistici. Secondo alcuni, saranno la prossima grande rivoluzione tecnologica, in grado di risolvere problemi che oggi sembrano impossibili. Ma cosa li rende così speciali? E soprattutto, sono davvero così rivoluzionari o è solo un'esagerazione? Pensate al vostro computer, lo smartphone o qualsiasi altro dispositivo che usate ogni giorno. Funzionano grazie a miliardi di bit che possono assumere stati 0 oppure 1. È così che elaborano informazioni, eseguendo calcoli alla velocità di miliardi di operazioni al secondo. Ma i computer quantistici non funzionano in questo modo. Loro usano qualcosa completamente diverso. I qubit. E qui inizia la magia. Come funzionano i computer quantistici? Immaginate di lanciare una moneta. Può cadere su testa o croce, giusto? Ma mentre è in aria, è in una sorta di stato indefinito. Potenzialmente sia testa che croce allo stesso tempo. Questo è simile a quello che accade a qubit. Le unità fondamentali dei computer quantistici. A differenza dei bit classici, che possono essere solo 0 o 1, i qubit possono essere 0 e 1 contemporaneamente. Grazie a un principio chiamato sovrapposizione quantistica. Questo significa che possono eseguire molte più operazioni nello stesso momento, rispetto a un computer tradizionale. Ma c'è un altro concetto che rende i computer quantistici ancora più affascinanti. L'entanglement quantistico. Questo fenomeno fa sì che due qubit possono essere collegati tra loro, indipendentemente dalla distanza che li separa. Se modifichiamo uno, anche l'altro cambia istantaneamente. Questo permette ai computer quantistici di lavorare con una velocità e un'efficienza mai viste prima. Se un computer classico deve provare tutte le possibili soluzioni di un problema, uno alla volta, un computer quantistico può elaborare più soluzioni simultaneamente, riducendo drasticamente i tempi di calcolo. Per capire l'impatto della computazione quantistica, facciamo un esempio concreto. Immaginate di essere in un labirinto con milioni di percorsi possibili. Un computer classico proverebbe ogni strada, una alla volta, fino a trovare l'uscita. Un computer quantistico, invece, grazie alla sovrapposizione, può esplorare tutte le strade contemporaneamente, trovando la soluzione molto più velocemente. Questo è il motivo per cui i computer quantistici sono così potenti. Non perché sono semplicemente più veloci, ma perché affrontano problemi in un modo completamente diverso. Adesso potresti chiederti, ok, ma a cosa servono nella pratica? Risolveranno i miei problemi quotidiani? Renderanno il mio pc più veloce? La risposta è breve. No, almeno non per ora. I computer quantistici non sono fatti per sostituire i computer tradizionali, ma per risolvere problemi troppo complessi per l'informatica classica. Ecco alcuni settori in cui potrebbero fare la differenza. Critografia e sicurezza informatica. Uno dei grandi timori legati al computer quantistici è che potrebbero rompere i sistemi di crittografia attuali. La maggior parte delle nostre comunicazioni digitali è protetta da algoritmi che richiederebbero migliaia di anni per essere violati con un computer classico. Un computer quantistico, invece, potrebbe farlo in pochi minuti. Per questo, gli esperti stanno già lavorando alla crittografia post-quantistica per proteggere i dati da questa minaccia futura. Un'altra area rivoluzionaria della computazione quantistica è la biologia. Simulare il comportamento delle molecole è estremamente difficile per i computer classici. I computer quantistici, invece, possono analizzare molecole complesse molto più velocemente, aiutando nella scoperta di nuovi farmaci e cure per malattie come il cancro o l'Alzheimer. L'intelligenza artificiale è già potente oggi, ma ha dei limiti. I computer quantistici potrebbero renderla ancora più efficace, migliorando la capacità di apprendimento delle reti neurali e accelerando lo sviluppo di IA avanzate. Finanza e analisi dai mercati. Le istituzioni finanziarie stanno già investendo nella ricerca quantistica per ottimizzare strategie di investimento, simulare mercati e prevedere crisi economiche con maggiore precisione. Previsioni meteo e simulazioni climatiche. Prevedere il tempo in un modo accurato è incredibilmente complesso, perché coinvolge miliardi di variabili. I computer quantistici potrebbero migliorare notevolmente i modelli climatici, aiutandoci a prevedere uragani, terremoti o altri disastri naturali, con maggiore precisione. I limiti della tecnologia quantistica. Se tutto questo suona così incredibile, perché i computer quantistici non sono già ovunque? La risposta è che la tecnologia è ancora agli inizi. Costruire e mantenere un computer quantistico è estremamente difficile. Questi sistemi devono operare a temperature vicine allo zero assoluto, per evitare interferenze. Inoltre, la correzione degli errori è un problema enorme. I qubit sono estremamente fragili e possono perdere le loro informazioni con facilità. Anche le aziende che stanno sviluppando computer quantistici, come Google, IBM o Microsoft, stanno ancora cercando di rendere questi dispositivi stabili e affidabili per applicazioni reali. Quanto manca alla rivoluzione quantistica? I computer quantistici sono già una realtà, ma non aspettarti di trovarne uno sulla tua scrivania nel prossimo futuro. Sono strumenti destinati a scienziati, ricercatori e grandi aziende, almeno per ora. Ma una cosa è certa. Nel momento in cui questa tecnologia sarà matura, cambierà il mondo. Potremo risolvere problemi oggi impossibili, rendendo possibile una nuova era per la scienza, la tecnologia e la società. La domanda non è se i computer quantistici rivoluzioneranno il mondo, ma quando. E tu, cosa ne pensi? E tu, cosa ne pensi? Grazie a tutti